Ha giudicato, venduto al gruppo Affare Energia. Il prossimo bene che vi proponiamo è un affare garantito. È un bene che è essenziale per la vita. È garantito dallo Stato e non c'è rischio di impresa. Un affare che ha un ritorno sul capitale del 7%. È un business grande e in espansione. Stiamo parlando della gestione dell'acqua. Mi aspetto offerte interessanti. Signori, basta e... Signore, l'acqua non si vende. È di tutti. Signore, l'acqua non si vende.